... Sono partiti per la serie numero 13 Nel frattempo procediamo con la premiazione dei 100 stili libero ragazzi femmine premia il co-organizzatore dell'evento Aurelio Minini al terzo posto medaglia di bronzo con 1'0079 per la rappresentativa Idos modulo Matilde grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti